Tutto quello che abbiamo archiviato in Drive rimane nostro fin tanto che lavoriamo all'interno della scuola che ci ha fornito l'account Se guardiamo i materiali che abbiamo archiviato nel Drive vediamo che risultiamo i proprietari di questi file perché li abbiamo creati noi In realtà però proprietario di questi documenti è l'account del nostro istituto Quindi cosa succede se al termine dell'anno scolastico io cambio scuola? Allora l'account di istituto sarà cancellato per evidenti motivi di privacy Ma io non potrò più avere accesso quindi al Drive E se non ho più accesso al Drive non ho più accesso nemmeno a ciò che il mio Drive contiene Allora come faccio io per tenere i lavori che ho creato anche se me ne vado? Allora se il file in questione è un documento di testo, un filmato, un foglio di calcolo o anche un lavoro creato con l'applicazione Jamboard ad esempio Non ci sono problemi Devo solo ricordarmi di scaricarli prima che termini l'anno scolastico Evidenziandoli, aprendo il menu delle opzioni e poi scegliendo Scarica Il file verrà scaricato sul mio computer E a questo punto io di questo file posso fare tutto quello che voglio Se invece io ho preparato un lavoro con Google Moduli Qui le cose sono un po' diverse Perché se io faccio la procedura di prima selezionandolo e poi aprendo il menu a tendina Mi rendo conto che non c'è l'opzione Scarica Negli altri file sì Nel file di Google Moduli no Quindi bisognerà attivare una procedura leggermente diversa Vediamo come si fa Allora per prima cosa io devo avere però un account Google Cioè un account che termina con gmail.com Un account Google mio personale Vedete che è diverso da quello dell'istituto che termina con edu.it Quindi questo è il primo passo Poi vado nel mio drive, quello di istituto dove ci sono i documenti che mi interessano Apro drive, scelgo, facciamo finta che vogliamo scaricare questo Google Moduli Che si intitola un ottimo caffè Evidenzio, tasto destro, apro il mio menu a tendina e poi vado a scegliere Crea una copia Ecco qua Questo è il file originale e qui c'è copia di un ottimo caffè Benissimo Ma non è sufficiente, vediamo perché Se io la evidenzio e poi di nuovo col tasto destro apro il menu a tendina Cosa devo fare? Devo cliccare su condividi Mi si apre una finestra di dialogo E io vado a scrivere il mio account personale Quello che termina con .com Vedete che c'è scritto editor però? Io qui non posso cambiare Non posso mettere proprietario Quindi, copia di un ottimo caffè Chiedo di condividerla con il mio account personale Clicco su invia Mi si apre una finestra Che mi dice Guarda che stai condividendo questo file con qualcuno che non appartiene all'organizzazione G Suite Certo, infatti vedete che questo è un account che non c'entra con la piattaforma della scuola In questo caso però, siccome sono sempre io Gli dico condividi comunque Andiamo a vedere quello che è successo Quindi adesso io entro col mio account personale nel mio drive Ed eccolo qua Copia di un ottimo caffè Quindi, la copia del lavoro che c'era nel drive della scuola Adesso io ce l'ho nel mio drive personale Ma se faccio una prova Cioè, se faccio la procedura di prima Cioè, evidenzio, tasto destro Apro la tendina E poi clicco su condividi Io mi accorgo Certo che l'ho condiviso Ma il proprietario continua ad essere l'account d'istituto Quindi, nel momento in cui questo account viene rimosso Io questo documento non ce l'ho più Dobbiamo fare allora un ulteriore passo Ecco l'ultima operazione Sempre dal mio account personale Torno sulla mia copia di un ottimo caffè Apro il menu a tendina E questa volta vado ad aprire nuovamente Fai una copia Eccola qua Copia di una copia di un ottimo caffè Già si vede che è cambiato qualcosa Perché io risulto come proprietario Ma se io per sicurezza Rifaccio Quindi apro condividi Ecco che è cambiato Visto? Proprietario Adesso io sono proprietaria di questo lavoro Quindi, se anche la scuola cancellerà il mio account Il mio documento fatto con Google Moduli Continuerà ad esserci Come faccio a recuperarlo? Semplice Basta che io dal mio browser Entri in Google Moduli Sono dentro col mio account personale Adesso è la scuola non c'entra più La scuola ammettiamo che ha cancellato tutto quello che mi riguarda Io però, eccolo qua Copia di una copia di un ottimo caffè A questo punto io posso rinominarlo Perché copia di una copia è proprio brutto Ma soprattutto io posso fare qualsiasi cosa Posso utilizzarlo così com'è Per mandarlo come lavoro già pronto Ad un'altra classe Oppure posso editarlo Modificando delle domande Cambiando dei materiali Perché è mio E posso farci tutto quello che voglio Mi permetto di dare un consiglio Ai colleghi Che magari tutti gli anni Cambiano scuola O che comunque non sono sicuri Di rimanere nella scuola dove hanno insegnato E' meglio fare il contrario Anziché creare i materiali Dall'interno della piattaforma dell'istituto Createli all'interno del vostro account personale E poi, quando, non lo so, li dovete assegnare come compito Attraverso magari i classroom Li caricate dal vostro account personale Dal vostro drive, dal vostro computer In questo modo voi avrete una copia personale Che rimane comunque sul vostro computer E la copia che verrà archiviata nel drive della scuola Ma se alla fine dell'anno Cambierete scuola e sarà cancellato il vostro account Non dovrete fare più nulla Perché tutto quello su cui avete lavorato Ce l'avete già sul vostro computer Buone vacanze!